Il giorno dell'esperimento d'asta non è straordinario che ci sia un solo offerente. Il delegato alla vendita, all'apertura della busta, dovrà considerare l'effettiva validità dell'offerta e immaginare di identificare tutti quei dati che sono assolutamente indicati nell'avviso di vendita. Qualora questo si verificasse valido, risulterà unico aggiudicatario e anche in assenza di altri partecipanti all'esperimento d'asta.